C'era una volta un burattino che voleva diventare un bambino vero e la via più breve per riuscire nel suo intento era massacrare tutti i mostri che si trovava davanti in un gioco souls-like, tenebroso e assolutamente insensato. Ciao a tutti e bentornati su Top Games, ma soprattutto ciao a te perché lo so che ti stai per iscrivere al canale e trovi il pulsante qua sotto come qui sotto in descrizione trovi tutti i link dedicati ai gruppi facebook che abbiamo creato per parlare dei giochi che portiamo qua sul canale. Quindi se anche tu vuoi condividere la tua esperienza all'interno del mondo dei souls-like e principalmente in Lies of P, qua sotto trovi il link. Ma ora veniamo a quello che è il nostro obiettivo, rompere il gioco. E in Lies of P non è per niente difficile, abbiamo due possibilità molto ben distinte. Abbiamo la via della forza bruta, quindi utilizzando tutte armi pesanti che rompono la posa del nostro avversario in pochissimo tempo e poi abbiamo la via dell'intelligenza, la nostra, nel scegliere l'arma combinata col manico giusto. Per discutere tutto questo dobbiamo prima di tutto capire come funzionano le armi in Lies of P. Intanto il manico definisce i movimenti che compieremo quando andremo ad attaccare un avversario mentre la lama il quantitativo di danno che faremo. Da una parte abbiamo il controllo dello scaling, dall'altra abbiamo il controllo dell'abilità. Questo sostanzialmente è il funzionamento delle armi di Lies of P. E possiamo semplicemente mescolare tutte le armi normali come vogliamo, ma non quelle dei boss. Quelle dei boss sono armi uniche che nascono già finite. Non potremo mescolare l'elsa di un'arma dei boss con una lama normale o viceversa. Quindi il manico controlla sia il moveset con cui attaccheremo il nostro avversario che lo scaling. Ma che cos'è lo scaling? Perché probabilmente non è chiaro per tutti. Lo scaling è definito dalla lettera che abbiamo sull'arma accanto a determinate voci come forza, destrezza, eccetera. Che in Lies of P ad esempio sono forza motrice e tecnica. In questo caso specifico abbiamo forza motrice B. Che cosa vuol dire? Che quando assegneremo un punto in forza motrice alle nostre statistiche, l'arma farà più danno rispetto a un'arma che ad esempio ha C o D. Ovvero ci vorranno meno punti per aumentare il danno che fa quest'arma rispetto a un'arma che ha lettere più basse. In parole povere, più alta è la lettera, meno punti ci vorranno per fare un bordello di danni. E in effetti potevo dirlo subito così. Ora parliamo di danno elementale, che in questo gioco si divide sostanzialmente in due fazioni, fuoco ed elettrico. Elettrico serve per i burattini e fuoco serve per tutto ciò che è di carne e ossa. Quindi tu mi dirai, per ogni zona devo avere un'arma specifica? E la risposta è assolutamente no. E la risposta è no, proprio perché il gioco in questo senso è già rotto di su, nel senso che è fatto e strutturato in maniera sbagliata. È vero abbiamo delle armi elementali che sono decisamente più potenti delle armi normali, perché oltre al danno base hanno anche, tra virgolette, un danno elementale che è rilevante all'interno del gioco, però noi abbiamo la libera capacità di infondere le nostre armi con quello che vogliamo. Quindi possiamo far diventare il nostro spadone elettrico o fiammeggiante a seconda dell'evenienza. Quindi belle le armi elementali, ma possiamo tranquillamente metterle da parte. Purtroppo io sono andato avanti con le armi pesanti. Di conseguenza ho disposto i miei punti nella maniera più sbagliata del mondo. Quindi tutto in potenza bruta e quindi posso usare soltanto le armi pesanti. Avessi saputo quello che so oggi all'inizio, avrei iniziato il gioco in maniera completamente diversa. E ora ti racconto anche come. Diciamo che avrei iniziato il gioco esattamente come l'ho iniziato nella mia run, ovvero con lo spadone. E mi sono divertito tantissimo peraltro, ma arrivato al primo vendor avrei dovuto comprarmi uno stocco. Non tanto perché mi piacessero gli stocchi, perché se non lo sapete, più è pesante l'arma, più è efficace la difesa, quindi subirete meno danni parando con un'arma pesante rispetto a quelli che subirete parando con un'arma leggera. Ma lo stocco ha una peculiarità. È velocissimo, compie un casino di azioni in pochissimo tempo, consumando oltretutto poca stamina. Quindi possiamo compiere più attacchi nel minor tempo e possiamo rompere la postura dell'avversario con maggior facilità. Quindi ho ragionato nel pondere il manico di uno stocco con la lama pesante che tanto mi piace. Di conseguenza riesco a fare un grosso quantitativo di danno in meno tempo rispetto ad un attacco pesante, lento e ponderato. Come puoi vedere l'attacco dello stocco è diretto, preciso e veloce, mentre lo spadone risulta essere più goffo, più lento, ma fa più danno. Quindi se metto le due cose insieme succede questo. Ho uno stocco spadone che attacca con una velocità leggermente inferiore rispetto ad uno stocco, ma rompe la posizione come se fosse uno spadone. Oltretutto la velocità non viene intaccata quando utilizziamo l'attacco pesante. E se non lo sai, l'attacco speciale delle armi non consuma la stamina. Quindi se sei un pochino furbo e sai gestirti i timing, riesci a rompere la posizione e la postura di un avversario nel giro veramente di pochissimi secondi. Ma tutta questa fatica e purtroppo la mia arma non scala come dovrebbe in destrezza. Ma c'è una soluzione! Corri da Venigni per poi ricordarti che non è lui che vende l'oggetto che ti serve e infatti è il suo maggiordomo robotico che hai salvato in precedenza. Parla col maggiordomo robotico e prendi la manovella della tecnica, quella che fa proccare la destrezza a manetta. Perché è una manovella. Poi recati da Eugenia per applicare la manovella al tuo manico di spada, modificandolo e rendendo lo scaling in destrezza A. Quindi molto molto conveniente. Ora provando la tua arma, se tutto è andato come deve, ti renderai subito conto che i danni che riesci a fare al manichino sono aumentati. E soprattutto, in questo momento, tu hai un'arma che è decisamente in grado di rompere il gioco, poiché hai una delle armi più veloci al momento disponibili dopo lo stocco, hai un'arma che può rompere la postura dell'avversario in 4-4-8 e hai la possibilità di infonderla elettricamente o col fuoco a seconda delle necessità. Ovviamente, provandola sui nemici del gioco, mi rendo subito conto che effettivamente l'attacco è funzionale, è molto veloce, diretto e mi permette di stare comunque un pochino più distante dagli avversari rispetto ad altre armi. Il danno che noi facciamo è equilibrato, sulla base del fatto che utilizziamo un manico di stocco con una lama pesante non mi aspettavo i fantadanni, ma comunque sono aumentati e riusciamo a buttare giù i nemici in veramente pochi colpi. Soprattutto contro i nemici più grossi, effettivamente tutto questo è molto efficace e ci permette di impiegare molto meno tempo nell'abbattere tutto ciò che incontriamo. E come puoi tranquillamente constatare, l'attacco speciale, l'attacco favola è qualcosa di veramente devastante, a pari livello dell'attacco favola dell'arma pesante. Tutto questo, per quanto sia assolutamente sgravato e ti permetta di rompere il gioco trasformando qualsiasi sfida in una easy mode, ha un lato negativo, molto negativo. Se hai iniziato il gioco basando tutti i tuoi sforzi sulla forza fisica, quindi la forza motrice, avrai messo tutti i punti in forza motrice e avrai cinque punti in tecnica. E dovrai aspettare il settimo capitolo per poter rispettare i punti. Già. Iscriviti al canale e fai come loro, abbonati così supporti il nostro lavoro e noi ti ringraziamo alla fine di ogni video. Grazie. Grazie. Grazie.